Ciao a tutti amici di The Room of View, ben trovati, eccomi qua di ritorno con un nuovo unboxing ed oggi andiamo ad unboxare l'ultimo film del maestro David Cronenberg, Crime of the Future, che devo dire mi è piaciuto non poco. È un film particolare che Cronenberg ha scritto nel 96 ed è incredibile perché è un film veramente attuale che ci mostra una relazione abbastanza d'amore, abbastanza particolare tra i due protagonisti, e un mondo dove praticamente l'intrattenimento principale e anche la sessualità viene praticamente accentuata da operazioni sul proprio corpo, violenze e quant'altro, insomma quello che ci potrebbe riservare il futuro, ma anche altre cose come anche un aspetto ecologico in cui ci ritroveremo, chissà, a mangiare la plastica, lo scopriremo, lo scoprirà chi starà al mondo nei prossimi 50, 60, 70 anni, 100 anni, non so quanto passerà, insomma se continuiamo a distruggere la terra così, non voglio fare l'ecologista, ma speriamo insomma che questo succeda il più tardi possibile. Ma torniamo all'edizione, devo dire che è una gran bella edizione con questo effetto sulla sleep cover, anzi sleep case per l'occasione, niente male, e vi ricordo che questo è un titolo uscito nella collana Midnight Factory, però di produzione Lucky Red e distribuito come sempre da Plyon Picture, all'interno troviamo sia il disco 4K che il disco Blu-ray un bel book da collezione e anche delle card, e vi ricordo che è uscita anche l'edizione normale del film in edizione classica della linea Midnight Factory. Nella parte posteriore troviamo un po' tutti i contenuti, ci sono anche due interviste sia al regista che a Viggo Mortensen, circa 20 minuti e più c'è un breve making-off anche lì di 4 minuti, insomma abbiamo una mezz'oretta scarsa neanche di contenuti speciali, però sono molto interessanti soprattutto l'intervista a Kronenberg. Nella parte laterale abbiamo ovviamente il titolo del film, dall'altra parte abbiamo l'alloggiamento del disco, nella parte superiore troviamo ancora il titolo del film e nella parte in basso non troviamo nulla. All'interno, come già detto, c'è una classica Amarai nera per i dischi 4K, nella parte posteriore c'è questa foto di Viggo, e poi all'interno abbiamo sia il disco Blu-ray che il booklet, le card che vi mostrerò a breve, che il disco 4K con i due protagonisti del film, non c'è nulla all'interno perché come sapete l'Amarai è nera, quindi non mi sembra che è stata fatta una stampa interna, infatti andiamo a controllare insieme, non c'è nulla. E poi come dicevamo, allora i dischi, gli extra li trovate sul disco Blu-ray, trovate tutti gli extra, mentre nel disco 4K trovate il film. Inutile dirvi che il disco 4K si vede molto meglio, ma devo dire che è un gran bel video, si vede molto bene anche il disco 4K Blu-ray normale. Ovviamente all'interno Master Audio 5.1 anche per l'italiano, perché parliamo di un film comunque prodotto per il mercato italiano. Poi qui metterò bene a posto la copertina, come dicevamo ci sono anche due card, c'è sia questa, molto bella, con ovviamente il logo degli eventi dritti, quindi Midland Factory e Lucky Red, e poi ne abbiamo una dedicata al Maestro Cronenberg. Anche qui con i due loghi. E poi per finire abbiamo anche il booklet redatto, come sempre, dalla redazione di Nocturno. C'è un bel saggio sul film, insomma che c'è anche la dichiarazione del regista, quindi abbiamo anche le note di regia, una breve nota di regia, poi ci sono come al solito delle belle foto gratte dal film. E poi ovviamente, come dicevamo, c'è anche il saggio sulla pellicola, insomma. Niente male per chi è appassionato di Cronenberg. Insomma questo è un titolo, secondo me, da non lasciarsi scappare, soprattutto perché non me lo aspettavo, insomma, che arrivava sul mercato anche in edizione 4K. Tanto di cappello a Midland Factory e alla Lucky Red, con ovviamente la collaborazione e distribuzione della Flyon Picture per questa uscita. Questa è l'ultima pagina, non c'è altro all'interno, e poi ovviamente nella pagina finale abbiamo il logo della Midland Factory. Che dire ragazzuoli, questa è un'edizione che trovate un po' ovunque, io vi lascio come al solito il link in descrizione di Amazon, ma sta disponibile ovunque. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati sempre sull'uscita dei prossimi video. Anche in questo video, visto che siamo alla fine, inizio dell'anno prossimo, non posso che farvi i miei migliori auguri per questo 2023 in arrivo. Noi ci vediamo al prossimo unboxing. Ciao ciao a tutti.